Vuoi creare una campagna per comunicare con i tuoi clienti? Allora ti serve uno strumento facile, sicuro e professionale, con canali differenti per raggiungere chi vuoi. Uno strumento che possa darti libertà creativa, garantendoti un recapito sicuro dei messaggi, con una reportistica incredibilmente avanzata e un'offerta impareggiabile. Quello che ti serve è Mail App, con una semplice iscrizione accedi alla piattaforma. Da questo momento puoi creare liste senza limiti e importare il tuo elenco utenti, creare newsletter con uno stile originale o scegliere tra i 400 modelli a disposizione, verificare la compatibilità del messaggio con i principali browser e client di posta e inviare con la certezza che i tuoi messaggi arrivino sempre a destinazione. Superando i filtri anti-spam. A questo punto puoi verificare quante persone hanno aperto il tuo messaggio, i gruppi che hanno cliccato e controllare il comportamento del singolo destinatario, in quale luogo ha aperto il messaggio e su quali contenuti ha cliccato. Per una reportistica davvero sorprendente. E non è tutto! Mail App si integra con i tuoi database, il tuo sito, il tuo CRM e il tuo sistema e-commerce. È personalizzabile, con tante opzioni aggiuntive, per rendere la tua campagna un successo e ti fornisce il know-how necessario per scoprire il mondo dell'e-mail marketing. E il prezzo? Paghi in base alla velocità di spedizione. Un canone fisso per liste e invii limitati. Be relevant. Be Mail App.